Il concorso Miss Universo è il concorso internazionale di bellezza più importante del mondo. Nasce nel 1952 in California e per molto tempo è anche stato gestito da Donald Trump. Oggi l'organizzazione arriva da Roma, da Marco Ciriaci, il patron nazionale, che ha deciso di riportare il tour regionale in tutte le regioni d'Italia e per il Piemonte è incaricato me per organizzare le selezioni. Quindi un grande impegno e ci proviamo e portiamo una nostra ragazza, il Piemonte, in finale internazionale. Tutte le selezioni del concorso saranno in provincia di Cuneo, quindi noi portiamo avanti e in alto la nostra provincia. Un'avventura che non è solo quest'anno, dobbiamo fare l'investimento per due, tre, quattro anni e riceviamo poi i frutti fra cinque anni, quattro anni, però dobbiamo fare un lavoro costante sempre nel tempo. Sicuramente un'ottima occasione per promuovere ancora una volta il nostro territorio attraverso un concorso, se volete, inedito, soprattutto inedito per l'ATL, perché spesso ci dedichiamo a quella che è la valorizzazione del prodotto tipico e di tutto il territorio, le peculiarità del nostro territorio, poter ospitare oggi la conferenza stampa di Miss Universo, sicuramente per noi è motivo di vanto ed è un'altra delle tante iniziative che abbiamo voluto affiancare nell'insegna della promozione del territorio cuneese attraverso le bellezze, possiamo dirlo veramente, del nostro territorio. Sul territorio abbiamo queste iniziative, sicuramente andranno a vantaggio di quello che è il territorio stesso, cioè quello di valorizzarlo e promuoverlo e questo evento penso che vada proprio in quella direzione. Esportiamo di tutto in giro per il mondo, dei prodotti meravigliosi, fantastici, saporiti, oggi esportiamo anche la grande bellezza e quindi voglio ringraziare il mio amico Hugo Magnaldi e Lisa Muriale per aver portato la presentazione di queste selezioni a Miss Universo che si svolgeranno fra l'altro tutte in provincia di Cuneo e questo ci darà visibilità qui nella sede della TL. Quindi viva la bellezza e viva la provincia di Cuneo.